Ste partite laggeranno talmente tanto che ho deciso di far lagga pure l'intro, quindi bella e benvenuti a questo nuovo partite laggose bestemmie fumose E eccoci di nuovo tornati a partite laggose bestemmie fumose Black Ops 2 Edition, vediamo se funziona anche in questo episodio, quindi mettete mi piace Bravissimi, mi piacete così Allora, questo è Black Ops 2 Edition, fuck you bitch Quindi, è proprio un nucleo dominio Boh, dico dominio, vorrei fare guerra terrestre Ma faccio dominio Peccato che hanno levato Nuketown, se no era ancora più devastante come cosa Non mi sono fatto nessuna classe E... voglio farmi una corpompa giocavo ragazzi, giocavo con questa classe Ho personalizzata 4, l'ho già trovata, occhio che qui ci si fomenta Let's do it Dov'è il microfono? Perché è così lontano? Mi vedete? Mi vedete? Mi vedete? Mi state vedendo? Mi faccio venire da vomitare? Ok raga, spero che io abbia una tacca, sto caricando un video, sto caricando l'ottavo episodio del Rotten Commander Let's go Due tacche, una tacca, eccola lì Mamma mia Mamma mia Il colpo credo non sia partito Però Vedi, M3 ha questo bel vantaggio che quando lagga, lagga bestia Va là È kill, 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 è kill Non sto parlando Oddio, ah no è vero, ho cambiato la... come cavolo ci si abbassava con questo? Ok LOL Ho cambiato la cosa perché sono un pro playa Le feed Assist Assist Credo che questa sia la serie più cazzarona mai esistita sul tubo Voglio fare una kill Oh Ma che cazzo è LOL Non mi fa saltare la kill cam Sti cazzi dell'uavvi nemico, io vi stupro le mamme Mi accrosso dei roccia Mamma mia, regà Mamma mia, regà Non so se avete compreso la possenza della mia kill Ok, ho esagerato, ho esagerato Sì, vabbè, ma quello davanti a me c'ha Non lo so, dei problemi Io ho una tacca, regà 1-3, occhio Let's go Ora fioccheranno i commenti con scritto Oh, cioè, zio Io gioco sempre così e non faccio sti risultati Ho attaccato la semtex a qualcosa e mi sta succedendo Quindi vabbè, caricateli voi i video con una tacca e poi ve credo Mamma mia Goku Teletrasporto Madonna, incellofanata per due Allora Qui, come si chiama questo? Forza boom Vabbè Non ho capito se hanno chiamato l'Uav o qualche cristo volante Merda Va bene Toh, toh, toh Ma, ma ho Ma che Ma, Dio Dai Dio pacco bomba Perdiamoci Perché ho la granata normale e non la semtex poi? Ma è partita? Ma è esplosa? Non esplodono le granate Mamma mia, regà One shot, one kill qui, eh Si riesca a andare in positivo Cosa alquanto improbable Mamma mia, mi stavano pure a sparare Due cinque Tank Allora Volevo informarvi di una cosa Ora che ci sto Spero che questo video sia abbastanza visualizzato Almeno Potrete sentire in più persone A Natale Arriverà un mega contest giveaway In cui il giveaway sarà Black Ops 2 Per Xbox Solo per Xbox Ora vi spiego un po' la situation Perché io Purtroppo la mia Xbox è morta E sto usando quella di mia sorella Però a Natale quella di mia sorella Andrà a mio cugino Perché mia sorella è stupida E non aveva calcolato che la mia Xbox si era rotta E l'aveva detta a mio cugino piccolo Quindi andrà a lui Andando a lui Mi ricomprerò La mia Xbox Vabbè i colpi miei che Vanno con Maometto Mi ricomprerò l'Xbox E ricomprerò Ricomprerò Ho visto un gatto Ha mangiato un ratto Basta La ricomprerò E comprerò il bundle con Black Ops 2 Però avendocelo già Ovviamente E lo metterò Nel giveaway Il contest ancora non so In cosa consisterà Vieni qua Vieni qua No 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 La madonna è tua madre Ed è una puttana E ancora non so In cosa consisterà Però Farò questo giveaway Con Black Ops 2 Quindi Fatemi sapere nei commenti Se avete intenzione Di partecipare Se vi piace come idea E tutte ste cagate Varie Oddio Mamma mia poteva essere Le mega feed 3.9 Quindi fatemelo sapere nei commenti Se vi piace come idea E se avete intenzione Di partecipare Se volete Black Ops 2 Probabilmente arriverà Dopo Natale Quindi Non lo so Qualcuno mi ha detto Tipo di fare un contest In cui chi vince Chi tira la bestemmia Più possente Guarda questo Cioè proprio Dio Suino Morto Allora Qualcuno mi ha suggerito Di fare un contest In cui appunto vince Chi tira la bestemmia Migliore Ma LOL Sarebbe un po' Ambigua come cosa Sicuramente Non sarà un contest Di commentary Perché non tutti hanno Il pvr O qualcosa Per registrare Le loro partite Da cristi Quindi non sarà Una cosa simile No ma c'è C'è la mamma Puttana C'è C'è Pessimo Terrificante Perché guarda in aria Il mio personaggio Cosa fai Cerchi Dio Ora prende me Bestemmio Gesù Non è vero Che palle Questi con l'uav Dentro i nemici Andiamo noi Mamma mia I miei colpi Che sono morti Ho i colpi morti Ma quel drone Non sa come si gioca Dai raga Spunta da qua Su Mamma mia Disintegrato Altro drone Vabbè che è Una C'è Stanno le telecamere Stanno riprendendo Ma non è esploso Quel drone Ancora non ho capito Come funziona Quel drone Perdiamo Prendiamo Siamo 312 Occhio Su Black Ops 2 Non si vede il lag Ma si sente Su Mv3 Si lagga a best Fatemi anche sapere Vabbè Raga Cioè Proprio Fatemi anche sapere Se Preferite Che questa serie Continui su Black Ops 2 O su Mv3 Che su Mv3 Si Mamma mia Kill con la macchina Da laggante Raga Sbo Oh Lol Mamma mia Le feed Mamma mia Gatemarker Se faceva Triple feed Ragavolo I soldi Perché C'è Che ricompense C'ho Regà Non sono adatte Queste ricompense Per una partita Del Gesù Va là Oddio Quello Mamma mia Col saltello Giro col Cortello Quando giro Per tu fello E faccio Il saltello Oddio Oddio Triple con Attacca Di nuovo Anche qui Anche qui Triple kill Con un'attacca Miliardi di Mi piace Voglio milioni Di mi piace Tripla con Un'attacca Raga Dai è così Sta serie È troppo divertente Raga Veramente Provateci pure voi A caricare un video A scaricare qualcosa E poi a gioco a code Ma sto a registrare Sì ok Sto a registrare Sì ok No se non sto a registrare Stamiamo il signore Provateci pure voi Perché è veramente È troppo funny Fa una cosa del genere È troppo funny Raga Oddio Di nuovo le feed Qui ci saranno Venite da me Non è vero niente Dov'è il gaily Oh mio dio Mi sa che No C'è Non gli è esplosa la madre A questo Mamma mia Regà C'è Non so se avete Vestate rende conto 12-16 Qui si rischia Il positivo Merda Oddio No Non mi abbasso Così è vero Non mi ricordo mai È morto È morto Addio Addio Padre Pio Basta Allora Qui sta finendo Quasi il tempo La partita è durata 8 minuti Dopo ne facciamo un altro Almeno bestemmio di più Eeeh Bella per te Bella per tutti Proprio eh Proprio bella per te Bella per tutti Bella per totti Proprio Ok Oddio Ha scavalcato 26 volte Perfetto Dai Cosa fai Snowboard Va bene Terrorista di merda Abbiamo perso ovviamente Quindi fatemi sapere assolutamente per il contest E se volete che questa serie continui su quale cod Tanto mo se ne fanno un'altra Almeno Sempre col fucile a pompazza Ho fatto una tribla con attacca Regà Di nuovo Hero again No cosa fai Vabbè D'altra parte va a taglio comunque A frappè Ok rieccoci Siamo sul cargo E mi sono messo L'uav Il contrattacco E un'altra stronzata Il credo Il missile Crystorm Perché C'è 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 Il warthog Comunque il warthog Regà Fa una cacciara della madonna Su sta mappa Non andrò mai in positivo Farò un negativo di 20 Ma dove sono i nemici Oddio Lol Ah no è vero Mamma mia Avevo failato l'accoltellamento Non mi puoi dare hitmarker Invece si che puoi Via da qui Mamma mia Vi stunno le mamme No E come m'ha visto Cioè Questa è forza boom Proprio Popo forza boom Popo boom Headshot bici Pazzo Basta Allora Quello Mamma mia Se gli riusciva a fregare una kill Era a parte un demente Poi ci aveva pensato La mamma morta Perché Allora Ci butti Mannaggia a me Merda To Stuna cross the universo Non ho stunnato nessuno Oddio Eh vabbè I scontri così ravvicinati Non li vincerò mai Comunque ripeto Per il contest È molto importante È solo per Xbox Perché ovviamente Io ho l'Xbox Quindi mi ricompro l'Xbox Non vado a prendermi una PS3 Quindi mi dispiace Per ora Magari per PS3 Farò qualche altro contest La gate supreme To Across the Camion No De Come si chiamano Ste cose I container Vieni da me Mannaggia Non ci ho capito Tipo nada Tipo nada Vabbè Questo è tipo Rambo Sto a fare A due kill L'ho fatta Ma quando mai Questo credo sia Quello fermo Yes No Guarda che pezzo di merda Col Dragon Cristo Cristo Dragon Fire È inutile Non siete Pro se mi uccidete In questa partita Non preoccupatevi Qua c'è sta Aniromo Quello fermo Credo Venite a me Venite a me Vabbè Cioè Credo sia Inutile Dai Oddio Me so perso Perché ho girato La testa Non so più Dove sto andando Stavoli se qualcuno Mi era entrato in camera L'ho Prendiamo cosa? Non credo bro Hitmarker Ma dai Ma quanti Hitmarker sto a prendere A sta partita Cioè Più di quanti Ne dovrei prendere Alta Dai Padre Pio Al liquore Vabbè Vabbè Ti è Non capisco poi Perché ho la Granata E non La Semtex Mamma mia Ha shottato Sono salito pure De livello Come rovinarsi Il rateo Il primo che dice Ma così non ti rovini Il rateo Lo mangio Lo mangio Perché non me ne frega niente Del rateo Cioè zio Allora tu non sei Un Call of Duty Pro player Eh no Non sono proprio Un pro player Zistra Kenzie Basta Intanto sto a fare 4-6 E sto in negativo Manco di troppo Mamma mia No Mancava tipo Una kill Al Cristo C'è proprio Il Cristo Rivelatore Che ti dice Do stanno i nemici Vieni qua Vieni qua Ti credi Pro Mamma mia Oh un head Oh un head Comunque provateci anche voi A fare queste partite Poi magari Se potete registrare Mettetele come Video di Cristosta Mamma mia Il Cristosta Dove sono Come secondaria che c'ho Lo smav Perfetto Proprio roba da pro C'è pure il Cristo Nemico attivo Vero Mamma Mia C'è sto a fare Più kill Col Remington Laggando Che quando lo uso Senza lagga C'è non sto a prendere Un hit marker Rendetevi conto Dio Cribbio Ma cosa è successo Ma cosa è successo Che è successo Vabbè Cioè io non Shotto mai In sta maniera Mai Pure quando non laggo Da dove Mamma mia Proprio shot Dovrei fare un Un cristotaggio Con questa cosa All'uomo saggio Piace farlo Col formaggio Ricordatelo Sempre e comunque Ma sto registrando lì Sì C'è sempre sti dubbi Allora Qui dove sono però I gay Tie Oh mamma mia Si è salvato Non so come Allora Ehm Niente Aspettate un attimo Ok scusa del taglio Chi mi segue sa che Mentre faccio video Faccio altre mille cose Tipo stare su Facebook MSN Skype E qualsiasi altra cosa Contemporaneamente Ho sbagliato Non prendo neanche i punti In questo modo Stiamo addirittura Rischiando di vincere Merda Ma tipo visto Credo No Dove sta Ma dove era questo Spider-Man Sopra i Mamma mia Che schifo Uomo Personaggino Di merda Bella che hanno piato bravo Cioè raga C'ho la squadra fomentata Cioè manco Gli apostoli Erano così Fomentati Non ho capito Che hai detto Però c'ha ragione Vabbè Basta Con sto guav Guardate questa Va bene Stanno tutti Lì su To Guardate questa Canestro No Oddio Oh Lol Proprio mega fail Calcola se sbughi Mori Ah ma stai qui su Sbapem Manco assist Perché il mio colpo Non è partito Vieni qua Oddio Tipo disintegrato Ho visto Wall in azione Regà La GR Non more La GR Calcolate questo Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene La madonna In calore No 9-11 Ma stavo tipo un positivo Allora prima Vabbè assist Vabbè assist Eeeh C'è vabbè Guarda uno che deve fa Mannaggia a me che mi sbaglio Tasti Perché mi sono messo la cosa tattica Perché sono un demente Ecco perché mi sono messo la cosa tattica Dio ma l'ho teletrasportato In un'altra Dio menzione Vabbè regà Cadeci su LOL Il bello è che pure l'altri Mi vedono la gara Quindi non mi riescono a uccidere Penso To vi stunno le mamme Stun for the win Ero proprio Questi manco ci provano Col salto Ma Regà dai È bastata la tripla Come cosa pro In questa partita Per il resto 11-14 Occhio Qui Qui troppo pro Via da qui per favore Ok Cristo nemico in attivo Ma perché si è girato Nel momento in cui Io ho fatto Padre Pio Basta Qualcuno mi ha detto che bestemmio troppo Nei miei ultimi video Questa è la risposta E Voglio far Allora la granata l'ho già lanciata Oddio è quello? Quello è mio Già è morto Calcolate questo Cioè quello Sta già esplodere il cane Cioè il cane è già morto Non ci ho capito niente Però va bene lo stesso Va bene Teletrasporto 11-16 Va là Ma perché prendo le traverse? Va bene Se facevo quella Killcam che rimbarzava Oddio Comunque Questo episodio Questo video Anzi è finito Fatemi sapere per il contest Mi raccomando Perché Black Ops 2 Avrò un'altra gobia Come ho detto Perché prendo il bundle Dato che Insieme all'Xbox Mi danno Black Ops Un joystick Il carica batteria del joystick Il carddisco è 250 Quindi la pago 200 Quindi È abbastanza conveniente Quindi Fatemi sapere per il contest Se parteciperete Ovviamente è per Xbox Il gioco Però se voi avete la PS3 Volete Non lo so Parteciparlo stesso E poi ve lo rivendete Lo scambiate È la stessa cosa Poi penserò bene A come fare il contest Non preoccupate Di questo ve lo dirò Mettete mi piace Commentate Arriviamo a 2500 mi piace Bella